Come è un'opportunità di crescere? Come è un'opportunità che aiutano a crescere e che vedo crescere, amici con la quale poter condividere idee. Prima di challenge myself, di essere inspiraato dalla squadra e di portare questa inspirazione alle altre. E questa è la motivazione principale, di portare le idee, le idee creative, alle altre e a te e a te stesso, e a broadere i tuoi orizzonti. Perché è un'occasione per mettermi alla prova e per fare in modo che il mio lavoro possa essere d'aiuto a tante persone, a più persone possibile. Perché credo tantissimo nelle idee di valore, perché voglio crescere e confrontarmi con tutti. Perché credo nelle idee innovative e che possano aiutare alla società e alle persone a creare un mondo migliore in cui vivere. Perché ritengo sia una grande opportunità per crescere sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. Perché la trovo un'occasione di crescita totale per noi che lo organizziamo e per le idee che troveranno un pubblico dove mettere radici. Perché mi piace l'idea del TED. Perché mi sono innamorata dei TED che ho visto su internet e poterne far parte in prima persona è una grande opportunità per me. Perché ho voglia di mettermi in gioco e credo nella forza delle idee e nella forza dei giovani. E penso che ognuno di noi può essere una forza motrice per modificare e migliorare l'ambiente in cui viviamo. E quindi spero con tutto il cuore di dare il mio impegno e la mia voglia di fare in questo gruppo. E quindi viva TEDxorino! Grazie a tutti!